Buonasera, sono Nicola Rimondi, assieme a Gabriele Sorichetti e Simone Gheduzzi formo diverse righe studio, società di architettura e ingegneria con la quale abbiamo candidato all'edizione 2019 il progetto dell'Opificio Golinelli, che ha vinto per la sezione restauro e recupero di edifici non residenziali premio sulla sostenibilità. Ringrazio sicuramente tutta l'organizzazione dell'Agenzia, ringraziamo ancora sempre la Fondazione Golinelli per la possibilità di averci scelto o incaricato per la progettazione dell'Opificio. Faccio ancora i complimenti all'Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile perché ogni anno rinnova e continua a organizzare la settimana della sostenibilità, evento al quale ogni anno cerchiamo di partecipare perché comunque è pieno di contenuti interessanti e promuove lo sviluppo della sostenibilità che è un tema sicuramente sempre necessario. Grazie